salve dream man e grazie del suggerimento mando un saluto al nostro caro amico dream man di youtube che l'amico che mi ha suggerito il tema del giorno cioè di parlare sulle scie chimiche e quindi invito a tutte e tutti voi che guardate questo video a mandarmi dei suggerimenti su quali sono gli argomenti su cui vi piacerebbe che io parli di più qualsiasi cosa abbiate in mente chiedetemela e io magari ci faccio un video e vi saluto pure quindi grazie dream man grazie dei tuoi suggerimenti e continua a me ne a farne e a condividere video come sempre fatto e a tutte e tutti voi chiedetemi su qualche argomento poi io vi saluto e voi potete condividere fra tutti voi contare i vostri contatti amici parenti e familiari il video arrivederci grazie dal vostro santa e canna salve amiche ed amici carissimi un'altra volta che mi filmo con questa ciò feca di tablet e la verità è che sono tornati alla ribalta molti argomenti molti argomenti interessanti che hanno causato anche lo scetticismo dei più e quindi io ho deciso di parlarvi di uno di questi argomenti che soprattutto ha tornato alla ribalta in rompentemente dilagantemente su youtube che è quello delle scie chimiche che già si parlava agli inizi degli anni 80 90 ma con molto più materiale ci sono molti critici molte persone che asseriscono che siano tutte delle bugie ma la verità è che ci sono anche tanti testimoni che hanno sperimentato le scie chimiche le famose scie chimiche ricordando alcuni nomi di persone coinvolte nelle scie chimiche c'è diego armando maradona la po al can che lui si dice chimiche se ne intende poi l'assessore del lazio che è stato coinvolto con le scie chimiche e con dei trans brasiliani poi califano poi vasco rossi insomma le scie chimiche hanno coinvolto molte persone certo la gente pensa alle scie chimiche come a quelle tracce che lasciano nel cielo di aerei che sono delle stelle di condensazione ma io mi riferisco a quelle scie chimiche che si producono quando fanno una striscia di cocaina e per così dire la tagliano prima di tirarla col naso giovanni agnelli lo chiamavano naso platinato per quanto ne ha tirato perché come noto è molto abrasiva poi hanno fatto un'analisi delle acque del po mi sembra e in un solo giorno delle aone le ultime 48 ore hanno trovato delle tracce di scie chimiche come per il consumo di un milione e mezzo di persone quindi di scie chimiche in italia se ne fanno tantissime ogni giorno col naso non con gli aerei quindi vi ripeto è un fenomeno allarmante che sempre di più si sta dilagando sempre più la gente si fa con queste scie chimiche voi siete tra quelli che si fanno con le scie chimiche che ne pensate lasciate un commentario sotto questo video date like se vi piace iscrivetevi al canale azionate la campanella per avere le novità e soprattutto se vi piace questo video condividetelo aiutatemi a raggiungere le 5000 ore di visione all'anno e questo è stato tutto per il momento riguardo le scie chimiche ma se questo video vi è piaciuto anche se fatto con un vecchio tablet di fine 2013 perché ho poche cose io condividetelo in questo modo magari youtube mi dà qualcosa e io riuscirò a farmi dei prodotti tecnologici nuovi arrivederci e grazie e se questo video ha molti consensi farò altri video sulle scie chimiche o sull'argomento che vi invindicate voi ciao